ciao da Andrea brevissima unboxing 1 2 3 questa scatola quattro che abbiamo per ultima so che questi video vi piacciono quindi li faccio spesso quindi abbiamo 1 2 3 4 procedo subito perché forse mi squida telefono che ero in video assistenza con un cliente link e quindi provarsi i miei richiami allora facciamo abbiamo delle locandine laica mobile allora laica mobile vi devo dire che ho attivato da poco una cliente che dove andare negli stati uniti e mi ha chiesto come fare laica mobile è rimasta due settimane si è trovata benissimo con una ventina di euro aveva mi pare negli stati uniti in tutta in tutto il mondo aveva roba di 10 giga in tutto il mondo una cosa del genere ok quindi questo 150 giga 5g poi vediamo ok adesso molto velocemente vi ricordo che sono a cagliari in piazza festival non do assistenza a chi non è il mio cliente perché ho moltissime richieste quindi posso dare l'assistenza solo a chi fa il contratto qui da me quindi uno l'abbiamo aperto vediamo un po qua anche questo link è laica mobile sono i player laica mobile adesso dovrò togliere i vecchi e sostituirli con i nuovi questa l'abbiamo visto vediamo un po questo questo qua lo apriamo probabilmente abbiamo delle cariche anche qua l'intern da 27 euro ricariche l'intern da 27 euro apriamo l'ultimo pappo che è questo vediamo cosa abbiamo qua così poi passano il cartone giovedì guardate che bello abbiamo una vetrofania e abbiamo un come si chiama questo totten bisogna dovrei cercare di di aprirlo vediamo un po se c'è spazio va bene sto qua sicuramente adesso mi da loro devo pensare come fare per aprirlo perché da solo forse non ce la faccio è questo che non riesco va bene ragazzi appena eccolo qua ci sono riusciti forse da fare in due da solo e questo lo metterò qua dietro la mia sferrania così ok allora sono a cagliari in piazza squivel 8 sotto i portici via cadello parco di monte claro internet energia elettrica speedy pack e firma elettronica qualificata per questo caso a due a un prezzo fisso da 11 euro per 10 anni esattamente 11 centesimi ho sbagliato 11 centesimi per 10 anni è una 9 50 di ccv o pcv costo commercializzazione vendita solo 9 50 114 euro all'anno invece dei 144 che fanno gli altri fornitori energetica ciao da andrea la mia assistenza ciao ti aspetto a cagliari in piazza del esquivel 8 ciao da andrea